Ciao a tutti da Mirko, oggi vediamo come risolvere il problema NoGyro su Betaflight. Se nel configuratore avete qualcosa di simile significa che il giroscopio non viene rilevato dal software. Questo problema può essere causato da vari fattori, vediamo di analizzare quelli più comuni e come intervenire. Innanzitutto quando il giroscopio non viene riconosciuto dal sistema potrebbe essere che durante l'aggiornamento firmware è stato usato un target sbagliato, quindi per prima cosa bisogna essere sicuri al 100% di aver usato il target corretto per quel determinato flight controller. Non fatevi ingannare dalla funzionalità Auto Detect, questa infatti vi dice l'ultimo target che è stato installato nel flight controller, ma se in precedenza ne avete messo uno sbagliato allora qui comparirà quello sbagliato. Verificate bene quale target vi dice di usare il produttore per la vostra scheda e assicuratevi di installare il firmware utilizzando quello giusto per il vostro modello. Se dopo aver verificato il target il gyro continua a non essere rilevato, allora potrebbe essere che il giroscopio si è guastato. Il giroscopio è una componente molto sensibile e ripetuti crash o picchi di tensione potrebbero danneggiarlo in modo irreversibile. In questo caso purtroppo c'è poco da fare, e se effettivamente il giroscopio è guasto vi consiglio di contattare un riparatore e valutarne la sostituzione. Su Facebook ci sono tante persone in grado di aggiustare un flight controller, in descrizione trovate il link al mio gruppo ufficiale. Se vi serve potete fare un post e sicuramente troverete qualcuno disposto a ripararvi il flight controller. Prima di gettare la spugna però si può provare ad intervenire via software, magari il giroscopio non ha nessun problema ed è un semplice errore di configurazione di Betaflight. Andiamo su aggiornamento firmware e come ho già detto in questo punto dovete essere sicuri al 100% che quello che state usando è il target giusto. Quindi qui attivate solo Core. Poi carica firmware online. Cliccate su connetti, poi applica custom default. Adesso andiamo su CLI e digitiamo status. Se in questo punto non vi compare nulla allora il giroscopio non viene rilevato e non c'è niente da fare, se invece visualizzate il nome del vostro giroscopio allora è Betaflight che ha difficoltà a riconoscerlo in fase di aggiornamento firmware. In questo caso si può aggiornare di nuovo forzando il sistema a riconoscere quel determinato giroscopio. Partiamo quindi prendendo nota del modello perchè ci servirà dopo, nel mio caso è un MPU 6000. Ritorniamo nella pagina aggiornamento firmware e questa volta assicuriamoci che solo Core non sia attivato. Ora nei Custom Define digiteremo la stringa che forzerà Betaflight a riconoscere il giroscopio. La stringa varia in base al modello di giroscopio che monta il Flight Controller, proprio per questo poco fa ve ne ho fatto prendere nota. In questa schermata potete vedere la stringa da digitare, la trovate anche in descrizione di questo video quindi potete fare un semplice copia e incolla. Mi raccomando copiate solo la parte scritta in bianco. Ok, io ho copiato quindi posso fare incolla. Ora aggiorno il firmware come al solito cliccando Load Firmware Online. Poi Flash Firmware. Molto bene, vado su connetti. Come sempre faccio Applica i Custom Default. A questo punto se il giroscopio non è danneggiato il problema dovrebbe essere risolto e potete continuare la configurazione in base a quello che avete usato nella vostra build. Un ultimo caso che può capitare è un giroscopio che viene riconosciuto a volte sì e a volte no. Questa volta il giroscopio potrebbe essere parzialmente danneggiato, cosa che magari si riflette in un volanomalo o ripetuti failsafe casuali. Anche in questo caso bisogna valutare l'ipotesi della riparazione, perchè volare con un giroscopio che da segni di malfunzionamento non è mai una cosa sicura. Per oggi è tutto, in questo video abbiamo visto come muoverci se abbiamo il problema no gyro. Se il video vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi e attivate la campanella. Per supportare il canale vi ricordo di acquistare sempre attraverso il link in descrizione o diventando miei Patrons cliccando il link a fine video. Grazie a tutti!